Ben trovati l'ATG della mobilità, le notizie del trasporto pubblico nella prima edizione del mattino. Oggi ultimo giorno di lavori sulla corsia dei tram di via Prenestina, chiusa tra Viale Palmiro Togliatti e via Bresadola. I tram della linea 14 da via Prenestina proseguono per via Bresadola, via De Castani e piazza dei Gerani. La tratta è interrotta e sostituita dai bus della linea 14 Navetta. E nel tredicesimo municipio cedimento del manto stradale in via Boccea tra via Verolengo e via Bra in direzione centro. Deviate sei linee diurne e due linee notturne. Per lavori urgenti sulla rete elettrica via Salaria è chiusa da via Panama in direzione centro. La viabilità è deviata lungo via Panama e via Chiana e tutto dal Tg della mobilità. Grazie.